vi ho già parlato di come l'essere umano in nome del progresso scientifico abbia ideato degli esperimenti atroci a questo proposito oggi vi parlerò di ciò che accadde tra il 1949 ed il settembre del 1952 romagna ecco quindi l'esperimento pitesti questo esperimento aveva il fine ultimo di rieducare i giovani prigionieri politici sostenitori della guardia di ferro fascista reclusi nel carcere di pitesti l'anticamera dell'inferno indebolendo la loro personalità e portando loro ad uno stato di obbedienza assoluta i prigionieri avrebbero dovuto abbandonare gli ideali politici e religiosi uno dei protagonisti di questa storia è eugen turcano un giovane prigioniero ed ex membro della guardia di ferro fascista che aveva aderito al partito comunista prima di essere purato insoddisfatto dei progressi di questo esperimento propose di usare mezzi violenti per migliorarne il processo per questa ragione turcano fondò con il consenso del direttore del carcere un gruppo chiamato odcc organizzazione dei detenuti con convinzioni comuniste il programma rieducativo secondo il protocollo prevedeva tre fasi di annullamento della personalità dei dissidenti e la riprogrammazione mentale i metodi di annullamento si basavano su torture fisiche ed umiliazioni psicologiche infritti da detenuti dell'odcc perché secondo il pedagogo anton maranenco nessuno meglio di un delinquente può educare un altro delinquente le fasi di rieducazione vennero chiamate smascheramenti la prima fase era lo smascheramento esterno prevedeva una serie di interrogatori dove i detenuti erano costretti a confessare crimini contro il comunismo la parte diabolica di questa fase è che le torture erano inflitte da altri detenuti della stessa categoria in modo da rompere i legami di fiducia la seconda fase prese il nome di smascheramento interno ed obbligava il recluso a denunciare i prigionieri che durante la prima fase erano stati meno violenti portando così il clima di violenza ad un inaudito visto che il più brutale era quello meno punito la terza fase prese il nome di smascheramento pubblico i detenuti erano obbligati a denunciare tutte le loro convinzioni personali in particolare i detenuti religiosi dovevano bestemmiare i simboli ed i testi sacri tutti erano obbligati a lunghi periodi di lavoro forzato ed umiliante come pulire il pavimento tenendo lo staccio in bocca e si alternavano a questo delle torture fisiche per tortura fisica si intendeva coprofagia forzata o immersione della testa del detenuto in secchi di urina a tutto questo si aggiungevano le torture psicologiche come la privazione del sonno durante tutto il percorso poi si tenevano delle sedute di studio sul comunismo stalinista con lo scopo di rieducare moralmente il prigioniero il processo di riprogrammazione terminava quando il soggetto veniva considerato un uomo nuovo e a questo punto poteva decidere se fa parte del odcc o di essere inserito nella società nel 1952 la politica stalinista decante lasciando il posto un'ideologia fondata sugli ideali socialisti proletari i metodi brutali utilizzati in questo carcere vennero condannati anche se i membri della sicurezza riuscirono a farla franca perché considerati estranei i fatti tulcano e il suo gruppo invece vennero accusati di aver agito di loro spontanea volontà per mettere in cattiva luce il partito comunista ad oggi non si conoscono ancora i numeri reali delle vittime di questo atroce lavaggio del cervello anche se si stima un numero tra i mille cinquemila soggetti il carcere di pitesti dopo le condanne venne abbandonato e nel 1991 venne venduto ad un'impresa edile che fece costruire un monumento in memoria delle vittime del più atroce esperimento sociale del blocco sovietico detto questo io vi saluto con la citazione di martin luther king ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi e l'indifferenza dei buoni